È un'emergenza a rallentatore quella che riguarda la demografia italiana, un paese, l'Italia, che invecchia, se osserviamo, le cohorti generazionali, cioè i pezzi generazionali della popolazione che mediamente col tempo salgono sempre di più, ci sono sempre più anziani, sempre meno giovani. E questo è un problema che riguarda tutti gli aspetti della nostra vita economica, ma l'economia è giusto un punto di osservazione per capire cosa sta cambiando. E in questa puntata di Macro vogliamo raccontare l'Italia nella sua crisi demografica, qualcuno parla di inverno demografico, cercando di analizzare dati e tendenze in particolare, ma anche possibili soluzioni, soprattutto per capire quali possano essere efficaci e quali un po' meno efficaci. Benvenuti da Marco Loconte in questa puntata di Macro. Vado subito a salutare gli ospiti di questa puntata, a partire da Marco Marsini, dell'Istat, demografo e a capo della task force dell'Istituto di Statistica, che analizza appunto i trend demografici italiani. Buongiorno dottor Marsini. Buongiorno, buongiorno a lei. Un saluto anche ad Alessandro Rosina, che è docente presso l'Università Cattolica di Milano, nonché collaboratore del Sole 24 Ore, proprio pochi giorni fa il suo ultimo articolo sull'argomento. Buongiorno professore. Buongiorno. Saluto anche la professoressa Cecilia Tomassini, anch'essa demografa, e ci racconterà del progetto EGIT, che ci potrà dare degli spunti molto interessanti, perché è vero, l'invecchiamento della popolazione è evidente, e occorre partire dai numeri per interpretare un trend, che ormai data da diversi anni, nel 1964, se ben ricordo, e il 1970, e qui coinvolgo il dottor Marsili, sono stati gli anni in cui la natalità in Italia è stata maggiore, più consistente, erano nate più di un milione di persone in quei due anni. Poi un calo continuo e lento, che ha portato le nascite nell'ultimo anno sotto quota 400 mila, e i decessi sopra quota 700 mila. Io dico i numeri un po' grossolani, chiaramente, l'uomo dei numeri è Marsili, ma anche delle analisi e delle tendenze. Questo è un trend che va avanti da tempo. Lei è un addetto ai lavori, ma mi può testimoniare il fatto che di questa emergenza, chiamiamola comunque problematicità, c'è una percezione un po' ridotta in Italia, o sbaglio? Dunque, lei ha richiamato i famosi anni d'oro. La prima mità degli anni Settanta, è vero, i livelli riproduttivi erano fantastici, possiamo dire così, ben oltre due figli per donna. Poi si è avviato un lento declino che è sotto gli occhi di tutti, conosciamo. Oggi i livelli riproduttivi del Paese attestano una fecondità di 1,2 figli per donna. Questo è il dato preciso che abbiamo monitorato nel 2023. Guardando i primi dati mensili del 2024, dati ancora provvisorici, confermano ancora un livello tendenziale di quel tipo, cioè 1,21 figli per donna. Detto questo, ci sono misure, sono state proposte, sono state avanzate da più parti. Non è sempre facile realizzarle, metterle in campo, richiedono anche un discreto impegno finanziario per un governo, per chi governa il Paese. Non esiste solo una chiave di lettura per risolvere il problema. Servirebbe una molteplicità di azioni, soprattutto sul versante giovanile, di aiutare giovani coppie, ma anche giovani, dal momento della loro nascita, fino alla loro formazione, al loro percorso formativo, quindi quello dell'inserimento professionale, il mondo del lavoro. C'è un tema molto delicato e scottante che riguarda il mercato abitativo, la difficoltà sul piano residenziale per i giovani a trovare la possibilità di staccarsi al nucleo di origine e via dicendo. C'è un livello di produttività in questo Paese per i giovani, insomma dei tassi di occupazione giovanili molto bassi, soprattutto tra le donne. Insomma queste sono un po' tutte le problematiche. Ora di fronte a tutto questo dobbiamo condannarci, dobbiamo flagellarci, parlare di inverno demografico e via dicendo. Io penso di no, non sono né ottimista né pessimista, cioè vorrei rimanere un attimo a livello pragmatico, cioè dire innanzitutto prendere atto della situazione. non è che la situazione non sia nota, ma la situazione è nota da anni, è stata rappresentata dall'Istat, ma non solo dall'Istat, anche dal mondo accademico e scientifico. Tutto il mondo sa che l'Italia è uno dei paesi più vecchi al mondo, insieme al Giappone, quindi non è vero che il tema non si conosca. E che purtroppo spesso e volentieri, come spero anche oggi, se ne parla il giorno stesso della diffusione di una notizia, dopo che il giorno dopo ce la si dimentica. Quindi l'immobilismo senz'altro non giova, però neanche il pessimismo spinto. Ci sono delle opportunità anche da cogliere nel quadro del processo di invecchiamento della popolazione. Abbiamo una popolazione, sì è vero, sempre più anziana, ma anche sempre più spessa in buona salute, soprattutto nella fascia età che può andare dai 65 ai 75 anni, per esempio. Poi abbiamo una componente di popolazione molto longeva, dai 75 anni agli 80 in su e in poi, che oggettivamente comincia a presentare problemi di salute, perché presenta più disturbi cronici, più malattie croniche. Però ecco, anche qui, se lo avessimo dire dal punto di vista prettamente economico, cioè di sostenibilità, è vero che il Paese paga annualmente una spesa pensionistica elevata e crescente tendenzialmente, tant'è che siamo uno dei Paesi, non tutti c'è da dire in Europa, per esempio, che hanno attuato da ormai decenni delle politiche previdenziali di contenimento del problema. Però anche lì ci sono delle opportunità, abbiamo una massa notevole di cosiddetti anziani, tra virgolette, che potrebbero essere socialmente, economicamente e utilmente investiti. E inoltre, soprattutto, ha anche avvantaggio della popolazione cosiddetta cronica, multicronica, cioè quella più anziana. Quindi da questo punto di vista, devo dire che l'Italia viene guardata nel mondo come un caso di studio, un esempio, un modello a cui guardare per il futuro. Perché quello che sta succedendo in Italia, in Giappone e anche in altri Paesi dell'area mediterranea, come esempio in Spagna e in Grecia, come dire, oggi sono fenomeni, quelli dell'invecchiamento, che colpiscono questi Paesi, ma in chiave futura molti altri Paesi seguiranno. E probabilmente con una velocità accelerata rispetto alla nostra. Pensiamo, ad esempio, adesso non ci pensiamo, ma tra 30 o 40 anni magari il problema si vorrà anche per i Paesi africani piuttosto che per quelli sudamericani, dove anzi il problema già c'è. Basti pensare alla Cina, che per anni l'abbiamo osservata come il Paese della sovrappopolazione, poi la politica del figlio unico. Oggi la Cina non è più l'industria manifatturiera del mondo, non è più il Paese della crescita economica e dell'inflazione, anzi è in deflazione, anzi c'è un problema di demografia che inizia ad avvertirsi anche in Cina. Insomma, occorre, ed è questo il lavoro del Sole 24 Ore, osservare periodicamente i micro cambiamenti, perché tutti insieme poi determinano dei grandi salti quantici, che è il caso di osservare e di analizzare a fondo. Tra poco torneremo sui trend demografici, che è il caso di monitorare l'immigrazione dall'estero, la mobilità interna, dalle aree interne alle metropoli. Ci torniamo tra poco. Marsili ha inquadrato perfettamente il problema, ma vorrei passare al professor Rosina, perché è vero che l'Istat fa un grande lavoro, ma il compito, per esempio, al professor Rosina, sul Sole 24 Ore, è quello di sollecitare una problematica che spesso, per esempio, sugli impatti economici e previdenziali, rischia di essere troppo nella coda dell'occhio, come dico io spesso. Insomma, lei in un articolo qualche giorno fa ha citato il Titanic, anche perché la gente poi suona il violino mentre la barca affonda. È una metafora abbastanza eloquente, ma anche perché la demografia, i grandi numeri di un paese, si muovono molto lentamente e non è semplice invertire le tendenze, giusto? Assolutamente. Io ho un'opinione un po' diversa rispetto al dottor Marsili, sono un po' più preoccupato di lui, tantomeno, perché se noi chiediamo alla Francia, alla Svezia, alla Germania, se farebbero cambio con la demografia italiana, nessuno accetterebbe. Perché noi abbiamo la stessa sfida che hanno le società mature avanzate, cioè quello di trasformare la quantità di anni in più in qualità di vita in più. Ma questo ce l'ha anche la Francia, ce l'ha anche la Svezia, ce l'ha anche tutte le grandi economie che vanno verso un benessere che si proietta anche in una vita che si allunga. Noi però abbiamo uno svantaggio competitivo, anzi, un doppio svantaggio competitivo. Uno, abbiamo un debito pubblico molto più elevato che brucia poi risorse che potremmo investire poi nel rendere anche la vita in età più avanzata qualitativamente migliore. E comunque la riduzione poi che è più accentuata nel nostro paese dei giovani, quindi la questione non è tanto il problema dell'invecchiamento, sono d'accordo su questo, su Marsini, cioè lì ci sono delle opportunità che vanno colte, ma in maniera analoga agli altri paesi. Noi non abbiamo più anziani rispetto appunto che la longevità italiana è simile a quella della Francia, delle Svesse, eccetera. Quello che appunto ci caratterizza e ci inguaia è la natalità particolarmente bassa. La Francia ha 1,7, quindi perdona, ma si diceva che l'Italia ha 1,2. Questa differenza è particolarmente rilevante. Tra l'altro la Francia si è ridotta recentemente e non vuole scendere più basso. Vuole quindi mettere in campo misure, e si è allarmata la Francia giustamente, vuole mettere in campo misure per sollevare la natalità. Tant'è che se noi confrontiamo il profilo demografico della Francia con quello dell'Italia, vediamo che la Francia ha un numero di quarantenni simile ai cinquantenni, un numero di ventenni simile ai trentenni, un numero di bambini di dieci anni simile ai ventenni. Che vuol dire che a fronte di una popolazione che è invecchia, avrà una forza lavoro potenziale che rimane solida. Mentre l'Italia ha quarantenni che sono di meno rispetto ai cinquantenni, trentenni che sono di meno rispetto ai quarantenni, ventenni che sono di meno rispetto ai trentenni, quindi una progressiva riduzione, quindi nuove generazioni che entrano nel mondo del lavoro via via sempre più deboli, con un debito pubblico particolarmente elevato e con tassi di occupazione giovanile e femminile particolarmente bassi. Ecco, io direi che la combinazione di tutte queste cose può rassicurarci, quindi ha bisogno di politiche solide, perché poi queste donne giovani che non partecipano al mondo del lavoro, con i giovani tra l'altro che sono di meno, da un lato danno meno capacità di crescita e di sviluppo al paese, perché appunto è da lì che si finanzia e si fa funzionare l'economia e anche i welfare group, ma dall'altro lato hanno anche meno possibilità di pagare contributi e quindi creare poi una condizione anziana positiva e quindi guardare con serenità il proprio futuro in età anziana. Quindi noi dobbiamo appunto prendere il toro per le corna, fino a ora non l'abbiamo fatto. Noi non abbiamo un progetto paese rispetto alla capacità di guidare i processi di trasformazione demografica e in combinazione di welfare e di sviluppo e stiamo andando come dire a una navigazione a vista. Quindi a ogni nuova manovra, ogni anno ci svegliamo e diciamo bene, adesso che cosa avanza per le politiche familiari, per i giovani, per le donne? Vediamo che cosa c'è ai margini, vediamo che cosa utilizzare e poi senza avere una vera efficacia, perché l'anno dopo ci troviamo con problemi che si sono aggravati, con gli squilibri demografici che sono più accentuati, con meno risorse e con più difficoltà poi appunto a mettere in campo le politiche che servono. Lo aggiungo io, professore, forse manca anche alla politica una capacità di visione pluriennale, pluridecennale, una capacità di pianificare quello che è un vantaggio anche economico da dare oggi a chi è più giovane che diventerà nel tempo un investimento per quando il giovane sarà nel mondo del lavoro e contribuirà in maniera efficace. È un po' il presentismo della politica italiana è un problema che non riguarda solo il tema demografico ma in questo caso è eclatante e poi coinvolge un po' tutto il resto della... Vedo la professoressa Tomassini che sorride e che... Perché già lei lo so noi stiamo andando in ordine rigorosamente alfabetico non siamo degli screanzati che lasciano parlare le donne dopo lo dico perché così per utilizzare un criterio ma mi faceva piacere far intervenire la professoressa Tomassini a questo punto che è una demografa anch'essa e che è impegnata in un progetto che riguarda che coinvolge diverse università eigit che cerca di mettere in campo delle politiche positive a vantaggio della famiglia ma non solo ecco ci può dare qualche indicazione su questo progetto nazionale su demografia invecchiamento e sostegno alla natalità sostanzialmente? non la sentiamo eccoci qua eccoci qua molto di più di tutto ciò Egit è una abbiamo qualche difficoltà tecnica purtroppo le linee come vedete non solo la demografia ma anche le infrastrutture digitali ogni tanto in Italia ci mettono in difficoltà ma dalla regia adesso stanno provvedendo e toccando ferro se possa bastare di solito non basta quella che serve sicuramente è la competenza di chi riesce a risolvere i problemi tra pochi istanti riusciremo a rimetterci in contatto con la professoressa Tomassini che vedevo prima in bassa frequenza era presente quando è toccata a lei parlare secondo la legge di Marfi si è incartato il tutto e ne approfitto per riprendere il giro con il dottor Marsini perché io prima citavo forse abbiamo recuperato la dottoressa Tomassini sono tornata mi sentite eccoci qua ci riproviamo ecco ci diceva che Egit non è solo sostegno e iniziative ci racconti qualcosa di più allora Egit è un non è tanto un progetto ma è un programma di ricerca è un un'idea nuova diversa di affrontare i temi della demografia ma non solo in tema di invecchiamento è stata riconosciuta dal PNRR la grande importanza dell'invecchiamento della popolazione in Italia ed è stata riconosciuta l'idea che è un tema che non si può affrontare soltanto dal punto di vista demografico ma le varie discipline che si occupano di invecchiamento devono lavorare insieme affinché le sfide proposte dall'invecchiamento diventino delle opportunità quindi è per la prima volta che vengono mette insieme istituzioni accademiche istituzioni vere e proprie l'ISTAT l'INPS fanno parte di questo progetto e anche le aziende questo significa che c'è un un mondo multidisciplinare anche di diversi tipi di istituzioni che lavora per trovare soluzioni alla sfida all'invecchiamento questo unisce sia medicina demografia sociologia discipline tecnologiche perché parecchie delle sfide che abbiamo con l'invecchiamento della popolazione possono essere in qualche modo affrontate anche con le opportunità date dalle nuove tecnologie ecco mi scusi io ho letto da un vostro documento mi corregga se se non dico non lo riassumo correttamente che è una delle misure chiavi oltre e forse ancora più di un sostegno alle famiglie diciamo così generico con sconti fiscali e quant'altro la vera differenza si può creare sostenendo le coppie che non riescono ad avere figli e che potrebbero come dire come dire avere un'efficacia anche in termini statistici molto importante per il mantenimento di una natalità un po' più consistente giusto? Sì lei si indiferisce immagino alla progrezione medicalmente assistita quindi all'idea che una volta era una tecnica che riguardava un numero esiguo di nascite in Italia adesso queste tecniche appunto stanno prendendo sempre più piede anzi invece di favorire una diciamo soluzione una fecondità sempre più tardiva in realtà anche dopo il referendum del 2005 questa cosa è stata resa abbastanza difficile quindi parecchie coppie italiane sono dovute emigrare per diciamo provare a realizzare questi desideri di fecondità attraverso la prograzione medicalmente assistita quindi ad esempio questo è sicuramente un un veicolo per provare ad aiutare le donne che arrivano a voler diciamo realizzare la propria fecondità sempre più tardi a farle riuscire ad avere i figli che desiderano questo è un tema molto importante ci torniamo sulle contromisure prima vorrevo ritornare dal dottor marsili perché i grandi numeri sono quelli che abbiamo in qualche modo illustrato e che i numeri però diciamo così il quadro generale diciamo io lo sottolineo spesso a volte sfugge alla percezione quotidiana e abbiamo invece una percezione quotidiana molto più palpabile di una serie di fattori che comunque l'Istat monitora con molta attenzione per esempio il trasferimento di un'immigrazione in Italia i permessi di soggiorno vedevo dal vostro l'ultimo report stanno calando è un segnale che l'immigrazione sta rallentando questo è il primo spunto secondo spunto c'è un'immigrazione interna uno spostamento interno che sta spopolando molti centri dell'Italia interna a Peninica per esempio il sud in particolare verso le metropoli del nord verso i grandi centri questa immigrazione interna è un fattore un trend estremamente importante che ci dice insomma come come dire la problematica non è solo di carattere generale ma è vita quotidiana di una gran parte della popolazione italiana sì esattamente sono d'accordo però visto che lei ci ha chiesto di provare a spiegare diciamo le cose con un linguaggio più possibilmente semplice che possa essere diciamo compreso diciamo la maggior parte del pubblico ci sta ascoltando quando io dico che bisogna essere diciamo realisti né pessimisti né ottimisti mi riferisco al fatto ad esempio che tornando un secondo al tema della natalità è vero è sacrosanto è giusto un paese democratico dovrebbe garantire a tutte le coppie il numero desiderato di figli che volessero avere nel corso la loro resistenza e qui in Italia siamo tutti d'accordo che mancano questi presupposti però va anche fatta un'operazione diciamo di chiarezza nel senso che noi abbiamo dimostrato è stato dimostrato più volte che il contributo che può avvenire dalla fecondità cioè dal fatto di provare a far crescere la fecondità di questo paese e quindi avere un numero più elevato di nascite non necessariamente si traduce in questo senso nel senso che noi abbiamo come ha ben descritto il professor Rosina abbiamo una struttura per età particolarmente della popolazione particolarmente compromessa già molto invecchiata anche all'interno delle fasce di età cosiddette produttive riproduttive dai 15 ai 49 anni per intenderci che cosa sta succedendo che quella popolazione lì si sta riducendo e quindi automaticamente anche se gli imponi o fa in modo che possano essere più feconde nei prossimi anni il numero di nascite se vanno bene le cose è destinato a rimanere costante quindi va benissimo garantire il diritto però bisogna essere realisti nell'affermare che non è soltanto da questa leva che si possono invertire le sorti della popolazione per come è strutturalmente articolata oggi detto questo invece una leva e qui mi ricollego alla sua domanda senza altro quella che ormai in gergo tecnico viene chiamata demografia veloce contrapposta alla demografia lenta dell'invecchiamento è il tema dell'immigrazione ora sul versante di migrazione interna sono un fattore importante che da anni diciamo da sempre storicamente hanno caratterizzato questo paese e continuano a farlo se noi andiamo a leggere con regolarità in serie storica i trasferimenti di residenza tra i comuni italiani vediamo che l'ammontare più o meno è sempre quello parliamo di un milione e quattrocentomila un milione trecentomila qualche volta un milione cinquecentomila trasferimenti di residenza tra comuni la maggior parte di questi trasferimenti diciamo sappiamo che si effettua sul breve raggio quindi all'interno di una stessa provincia o all'interno di una stessa regione e soltanto una quota a parte circa 300-350 mila trasferimenti interni si registrano tra regioni quindi hanno una lunga distanza e spesso come sappiamo riguardano più che altro cittadini del mezzogiorno che si spostano verso aree del centro nord e questo è un fatto storico che ancora esiste e permane sul versante invece delle immigrazioni con l'estero e lì chiaramente lì abbiamo la possibilità diciamo a costo quasi zero io parlo dal punto di vista strettamente demografico e se volete parzialmente economico non dal punto di vista politico però dal punto di vista demografico è un investimento quasi a zero quello di diciamo rinvoltire le file della popolazione etattiva con flusse di immigrati quando parlo di immigrati parlo di immigrati regolarmente residenti che hanno pieno diritto di cittadinanza in questo paese a starvi a risiedervi e avere i stessi diritti degli altri cittadini chiaramente non è neanche vero quello diciamo che stiano calando in realtà si è vero incidentalmente i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini extracomunitari nel 2023 hanno subito una lega flessione ma soltanto per una questione di carattere normativo perché si vanno avendo gli effetti di una sanatoria che è stata fatta nel 2020 quindi man mano questa sanatoria è stata quasi tutta portata a termine le pratiche hanno anche un lungo margine di tempo per essere diciamo completate e quindi stanno svanendo quegli effetti lì e diciamo la risultanza è stata che nel 2023 abbiamo avuto un calo da quel punto di vista ma in assoluto mettendo insieme tutte le immigrazioni al netto anche delle emigrazioni il paese ha un contributo positivo sta avendo in questi ultimi anni quindi saldi migratori netti con l'estero dell'ordine delle 150 160 mila unità all'anno che è un numero magari che qualcuno non ritiene neanche sufficiente c'è chi sostiene che ci avrebbe almeno il doppio all'anno come per esempio io ho sentito gli interventi sia del governatore a banca d'italia di recente o del presidente di confindustria che da questo punto di vista diciamo lamentano il fatto che ci sarebbe bisogno di molto più mano d'opera tra virgolette sia diciamo a tutti i livelli insomma non soltanto di bassa manovalanza ma anche qualificata da questo punto di vista quindi diciamo senz'altro quella del migrazione è una leva più rapida più immediata che potrebbe che unita e combinata a quella diciamo dell'azione sulla fecondità senz'altro potrebbe portare buoni frutti in chiara prospettiva chiarissimo allora lo ricordiamo tanto più in demografia ma nella politica degli esseri umani non ci sono soluzioni semplici a problemi complessi ma qui vado dal professor Rosina perché poi lui insegnando all'università io insomma tanti studenti studiano all'università cattolica tutte le altre università italiane ma poi magari vanno all'estero per specializzarsi oppure decidono di andare direttamente all'estero per studiare e poi rimanere noi rischiamo di non essere attrattivi per gli italiani e di essere poco o quantomeno sempre giustamente messi alla prova in termini di attrattività da un'immigrazione estera allora ma l'Italia è un paese che è in grado di essere attrattiva perché poi quando attrae delle forze lavoro o quantomeno delle professionalità delle competenze dall'estero è in grado di inquadrare in un percorso pubblico in una partecipazione alla Stata allo Stato analogamente a quello che succede per esempio in Francia dove invece c'è un'attenzione all'idea pubblica molto forte molto diversa che da noi direi appunto che al fine di dare un po' di chiarezza a questi processi e qual è l'approccio che dovremmo poi utilizzare per affrontare questi grandi cambiamenti che sono sempre più pervasivi e che incidono in qualsiasi sfera e ambito economico e sociale dobbiamo appunto aver presente che se la fecondità italiana rimane ai livelli bassi attuali le nascite andranno ad essere trascinate continuamente verso il basso perché si riduce progressivamente la popolazione in età riproduttiva cioè una spirale non è un calo lineare un calo la demografica ogni nuova generazione è meno di quelle precedenti e a parità di bassa fecondità trascina verso il basso le nascite se invece mettiamo le persone le condizioni di realizzare il numero desiderato di figli questo almeno è controbilanciato anziché avere nascite che si trascinano verso il basso e squilibri quindi che vanno ulteriormente a accentuarsi in futuro andiamo a in combinazione tra totalità e immigrazione a stabilizzare la base demografica del paese della cosiddetta tirandia demografica e quindi a renderla sostenibile rispetto all'investimento che dobbiamo fare sulla popolazione anziana e sulla vita che si allunga e teniamo presente che il punto centrale è proprio questo perché il puntare sull'immigrazione porterà poi alla situazione in cui l'immigrazione sarà sempre meno sufficiente perché gli squilibri saranno sempre più accentuati non solo ma l'immigrazione stessa ha bisogno di un'Italia che fa serie politiche familiari serie politiche di riduzione degli squilibri generazionali e di genere perché altrimenti i stessi giovani stranieri e le stesse donne straniere si troveranno con le stesse se non accentuate difficoltà dei giovani e delle donne italiane quindi noi dobbiamo vedere a livello di policy in maniera sistemica e integrata le politiche familiari migratori di genere e generazionali perché è la combinazione di queste leve messe assieme che poi consente a mettere al centro poi le politiche di sviluppo che consentono poi di rendere anche l'invecchiamento più sostenibile e quindi di poter continuare a generare sviluppo e benessere anche vivendo sempre per lungo ora il fatto è che siccome tutti i paesi stanno andando verso una situazione di ricambio generazionale insufficiente abbiamo detto anche la Francia stessa è 1,7 vuol dire che nel confronto tra paesi economie mature avanzate diventerà sempre più accanita ed aggressiva la notta ad attrarre giovani competenti e qualificati perché saranno la risorsa principale poi per crescita sviluppo innovazione perché ne avranno tutti carenza il rischio è quindi che i territori deboli quelli che meno consentiranno ai giovani di trovare adeguata formazione ma soprattutto poi adeguato ingresso nel mondo del lavoro adeguati redditi al lavoro adeguata valorizzazione adeguato welfare decidano di andarsene semplicemente altrove e questo sarà sempre più facile cioè quello che io mi chiedo è in un'Italia con il debito pubblico che abbiamo con squilibri demografici che vanno ad accentuarsi e che con risorse incomprimibili che vanno comunque verso la popolazione anziana perché le pensioni bisogna pagarle devono essere sempre più solide e devono essere dignituose pura assistenza verso la popolazione anziana bisogna garantirlo e migliorarlo ma se cresciamo di meno perché abbiamo una popolazione una forza lavoro che si riduce dov'è che le risorse andranno a mancare sulla formazione sulle politiche attive del lavoro su ricerca e sviluppo e innovazione e allora sarà semplice per i giovani e molto razionale semplicemente spostarsi dal pre-confinito insomma il rischio per dirla insomma in maniera spicciola è che avremo molti anziani non avremo un numero sufficiente di badanti per poterli accudire anche attenzione che questo già sta succedendo in aree crescenti del paese nelle aree interne del paese noi abbiamo già lo specchio il ritratto di quello che rischia di diventare l'Italia se non diventa attraffiva rispetto alle nuove generazioni l'Istat ricorda nei suoi report che un emigrato italiano su tre è giovane tra i 25 e i 34 anni sono 35.000 quelli del 2022 che sono andati all'estero di cui diciamo la metà è in possesso di almeno una laurea stiamo perdendo delle risorse importanti e facciamo fatica ad attrarre allora io provo torno alla professoressa Tomassini per vedere se ho capito perché non ci sono soluzioni semplici a problemi complessi e questo è un bello slogan che io mi rivendo spesso ma il punto è che in questo caso parlando di demografia ci sono politiche veloci abbiamo detto l'immigrazione e politiche lente che sono quelle che poi arrivano un po' al dunque ma che non sono alternative queste due politiche ho sbaglio assolutamente no fra le altre cose è interessante vedere come gli anziani che poi sono quelli che vivono più a lungo quelli che hanno una migliore salute sono anche quelli che hanno avuto un'istruzione migliore che hanno avuto dei lavori migliori quindi l'investire sulle giovani generazioni fa anche sì che l'invecchiamento di domani sarà un invecchiamento appunto più sano più attivo più longevo e quindi con tante caratteristiche positive quindi bisogna investire sicuramente sul capitale umano quindi sulla scuola e far sì che appunto questi i vantaggi del miglioramento delle condizioni diciamo formative dei giovani poi proseguono lungo il corso della vita quindi questo è molto molto importante bisogna l'idea della lungimiranza l'idea del pensare alle politiche non con un arco di tempo ristretto fa sì che appunto possa aiutare le generazioni di domani e questo è quello che noi viviamo sempre quella che il professor Villari chiama la perma emergenza cioè l'idea siamo sempre in emergenza che però diventa permanente e questo non deve più accadere cioè dobbiamo veramente pensare con delle ottiche politiche molto molto più lunghe il citato professor Villari è il rettore della Bocconi anche lui demografo che disturbiamo molto spesso e torneremo a disturbare prossimamente su questi su altri temi in chiusura delle nostre puntate in genere capita insomma la domanda ultima di riserva è che cosa bisognerebbe fare domani ma abbiamo appena finito di dire che non ci sono soluzioni semplici a problemi complessi ma da che cosa si potrebbe partire torno dal dottor Marsili io da mio punto di vista non voglio suggerire proporre all'esecutivo una visione un po' più di lungo termine come accennavo prima insomma vorrei capire l'agenda 2035 2034 quantomeno insomma a 10 anni anche perché ricordo una vostra statistica che avevamo pubblicato sul sole del lunedì da qui al 2030 l'Italia perderà oggi insomma all'incirca usciranno dal mondo del lavoro 1.500.000 persone ora il rimpiazzo abbiamo detto che è lento e quindi dobbiamo avere una pianificazione politica almeno a 10 anni se non di più cosa ne pensa? non posso che essere d'accordo da questo punto di vista purtroppo questa politica in Italia diciamo manca da molti anni insomma va anche detto che non sempre le politiche funzionano poi bisogna mettere insieme una serie di fattori ma anche non far niente non è molto effettivo lei ha fatto l'esempio della Cina io potrei fare anche l'esempio della spesso menzionata Germania che insomma negli ultimi dieci anni ha investito molti fondi pubblici cercando di far risalire i livelli di fecondità nel paese ci sono riusciti parzialmente sono arrivati a un massimo di 1,5 e qualcosa figli per donna e oggi anche loro stanno ritornando diciamo nel declino che sta tra l'altro attraversando tutti i paesi europei per un escluso certo è ben diverso stare a 1,7 1,8 figli per donna che stare a 1,2 come siamo in questo momento ma detto questo io su cosa fare domani io inizierei ragionare veramente sui giovani questo è un paese va detto diciamo che negli ultimi anni è stato un po' troppo passatemi il termine anziano centrico su tutta una serie di versanti e quindi ridare futuro ridare fiducia ridare aspettative ai giovani se io faccio sempre l'esempio dell'imprenditore che diciamo che ha dei soldi da investire e decide se investire in qualcosa di pratico di materiale piuttosto che accantonarsi i soldi in attesa di momenti migliori ecco i giovani e le giovani coppie in qualche modo ragionano devono ragionare sono costretti a ragionare in questi termini se non vedono davanti a loro un futuro diciamo di prospettiva roseo un po' un po' perché non ce la voglia un po' perché mancano i presupposti insomma è difficile quindi senz'altro investirei dai giovani partirei iniziando dal percorso scolastico formativo mi domando sempre perché in Italia debba avere un percorso formativo così lungo e soprattutto mi domando sempre perché non c'è un granché riscontro sul piano della domanda e dell'offerta rispetto al mondo dell'impresa mi domando tante cose come ho detto prima c'è la questione anche della questione abitativa dei giovani è difficile uscire dai giovani per i giovani dal nucleo di origine dovendosi subbarcare la problematica del mutuo di trovare abbiamo dei prezzi immobiliari veramente allucinanti in questo momento in questo paese quindi insomma ecco questi sono soltanto piccoli esempi l'ultima cosa importante soprattutto sul lavoro dare prospettive di lavoro ai giovani presentare innovative dal punto di vista legislativo che possa favorire l'ingresso dei giovani al mondo del lavoro con politica di decontribuzione insomma questo tipo di cose qui io mi sentirei diciamo di avallare di suggerire anche perché siamo un paese in Europa insieme alla Grecia col più basso tasso di occupazione e di attività tra i giovani quindi insomma come dire il lavoro se ne può fare e questo in chiave dell'ospettiva ha anche un vantaggio perché permetterebbe di ridurre se noi facciamo alzare la leva del tasso di attività e del tasso di occupazione permette comunque di contrastare il declino della popolazione di età lavorativa insomma abbiamo ampio margine è l'elefante in cristalleria proprio enorme che facciamo finta di non vedere però professor Rosina forse il problema è che la politica guarda agli anziani perché sono di più e votano e quindi diciamo così il marketing politico privilegia questo questo esistente perché ha un tornaconto immediato anche il partito che si candida alle elezioni o è una mia malevola interpretazione beh no è molto pragmatico la popolazione anziana aumenta e quindi il peso elettorale è più rilevante e quindi le politiche che vanno nella loro direzione che vanno ad accontentarli danno il maggior ritorno alla politica quelle invece che riguardano i giovani immediatamente no però se si inizia a usare ad essere credibili nei confronti delle nuove generazioni si ha un voto che dura più lungo tempo perché appunto si fanno entrare nuove leve con nuove idee rispetto all'Italia e anche alla visione politica che poi rimangono e possono appunto diventare anche solide nei percorsi anche dei vari partiti dei vari movimenti e quindi per più lungo tempo però quello che tutto il dibattito che abbiamo appena svolto fa capire che il problema non è la longevità non è nemmeno l'imbecchiamento che è una sfida comune che hanno tutte le economie avanzate quindi non ci differenzia rispetto alle altre economie è un altro processo è quello di degiovanimento cioè appunto un neologismo perché esprime qualcosa che finora non c'è stata cioè che siamo passati da una società e un'economia che si basavano sulla larga presenza di giovani che portavano la loro esuberanza il loro entusiasmo il loro dinamismo all'interno dei processi di crescita e di sviluppo del paese invece a una situazione in cui i giovani sono di meno sono pochi sono appunto hanno un peso molto meno rilevante e quindi il rischio è che questo degiovanimento non sia solo quantitativo ma anche qualitativo perché queste due cose si erano assieme cioè se i giovani sono di meno votano di meno noi investiamo di meno su di loro beh loro troveranno più difficoltà a trovare una famiglia a realizzare i propri progetti di vita e lavorativi e quindi avremo meno presenza nel mondo del lavoro e anche una fattura di natalità più bassa quindi dobbiamo partire da lì cioè da capire il processo di digiovanimento come si intreccia da un punto di vista quantitativo e qualitativo perché poi la soluzione vera è quella qualitativa cioè mettere le nuove generazioni nelle condizioni di realizzare pienamente i loro progetti di vita e di essere al meglio valorizzati nella società e nel mondo del lavoro perché questo poi ha ricadute anche quindi secondo me il punto di partenza è la valorizzazione dei giovani all'interno delle aziende e delle organizzazioni perché se noi li valorizziamo avremo giovani che si sentiranno protagonisti della tradizione verde della tradizione digitale di un paese che cambia e che cresce con loro e quindi migliorerà anche la voglia di essere ancora più attivi ma anche di formarsi e sarà un segnale che chi si forma meglio che chi investe meglio su se stesso e sulle proprie competenze poi troverà attorno a un paese che sarà supportivo in termini non solo di politiche abitative e familiari ma anche di piena valorizzazione nel mondo del lavoro quindi secondo me il tassello centrale da cui partire e legare tutto il resto è pagarli bene valorizzare al meglio il capitale umano all'interno del mondo del lavoro e poi agganciarci attorno a tutto un paese che funziona a partire appunto da qui Professoressa Tomassini concludendo insomma todo modo tutte le vie sono necessarie opportune e avere una visione completa olistica insomma non settoriale degli interventi abbiamo ministeri che dovrebbero occuparsi di questo che si occupano delle politiche per la famiglia dobbiamo tutti insieme sollecitarli mi pare di capire un movimento di pensiero e di sollecitazione sarebbe più che opportuno assolutamente per questo ad esempio il progetto EGIT ha in mente che in Italia come esistono già in altri paesi si prepari il futuro con con un'istituzione che possa appunto ragionare su tutti questi temi messi insieme come sono assolutamente d'accordo con i precedenti interventi ma è interessante anche ripensare la terza età come un momento di valorizzazione noi abbiamo tanti anziani che vanno in pensione anche abbastanza presto ma che avrebbero ancora molto da dare alla società in termini di esperienza in termini di risorse monetarie ricordiamoci che quello che forse contraddistingue l'invecchiamento italiano rispetto ad altri paesi e che i nostri anziani sono anche molto generosi ad esempio aiutano molto i giovani nell'acquisto della casa nell'affrontare la cura dei nipoti che in altri paesi ad esempio allo Stato con gli asiri nido non dico che preferisco i nonni agli asiri nido anzi però di lavoro ne fanno tanti gli anziani e sono molto generosi con il loro lavoro quindi accanto alla sicuramente la valorizzazione dei giovani ci dovrebbe essere anche la valorizzazione delle persone anziane che appunto possono ancora dare molto alla società e questo per far questo appunto abbiamo bisogno di un'idea finalmente diversa di non settorializzare l'invecchiamento della popolazione in diverse discipline ma proprio avere una versione una visione un pochino più ampia dei processi demografici che stanno avvenendo in questo paese e quindi l'idea che ci sia un coordinamento fra diverse istituzioni sull'affrontare il tema demografico a questo punto sembra assolutamente cruciale grazie grazie alla professoressa Cicilia Tomassini Università del Molise grazie anche a Marco Marsili Istat e Alessandro Rosini dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano grazie a tutti voi per averci seguito vi dico l'ultima cosa con cui è possibile come dire accendere uno stimolo vedevo poco fa i vincitori della medaglia Fields che come qualcuno saprà sono è la medaglia è un massimo riconoscimento per gli studi matematici la matematica è una parte importantissima di tutto ciò che è innovazione e sviluppo tecnologico in particolare ma non solo nessun vincitore della medaglia Fields dell'ultimo decennio poi andrò avanti per decenni precedenti nessuno di loro ha più di 40 anni e tutti hanno ottenuto riconoscimenti per lavori fatti anche 15 anni prima insomma i giovani sono fondamentali per lo sviluppo di una nazione e dell'innovazione tecnologica soprattutto per quello che riguarda la capacità di usarla e quindi è fondamentale dare il più spazio possibile alle giovani e generazioni e ve lo dice uno che non è più tanto giovane grazie a tutti voi per averci seguito e alla prossima puntata di Macro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti